Questa alle mie spalle ragazzi è definitivamente la mia ultima Rose Bikes E' forse la bici con più significato emotivo che ho mai avuto Perché con questa bici veramente ne ho passate di tutte Soprattutto emotivamente parlando Ce l'abbiamo fatto a continuare a sbagliare scusate L'anno scorso sono passato da quasi fare la mia migliore prestazione in una gara A ritrovarmi a letto con una gamba rotta In più ho fatto tutta la stagione con la stessa bici Cosa veramente rara perché di solito ne cambio circa due a stagione Semplicemente perché mi piaceva veramente tanto come era uscita la bici E infatti è l'unica mia Rose con tutti e quattro gli adesivi di partecipazione del Crankworx Ma quegli adesivi lì sono veramente solo per gli atleti che partecipano alla gara Questa bici raga racchiude veramente un anno di emozioni sia positive sia negative Ma comunque un anno che veramente mi ricorderò per tutta la vita Ed essendo la mia ultima Rose con un significato Ho deciso di darla a una persona che di sicuro ne farà buon uso Adesso stiamo andando a consegnargliela So che freme dalla voglia di averla perché me l'ha chiesta mesi fa È la consegna del testimone Eh sì mi sento bene su questa bici Spero che io gli ho detto guarda che io te la lascerò praticamente tutta come ce l'ho io Sappi che le manopole non ti me lascerò le mie belle odi perché quelle me le volevo tenere Quindi comprati delle belle manopole perché la prima cosa che ha detto adesso Ma che manopole mi hai messo tu? Che manopole mi hai messo? Sì è tutta bella Ricordati è l'ultima Rose del Toto questa Cioè ufficiale E con i cipollini qua Raga raga sono andato al crankboard Sono andato al crankboard Sì 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 Va un culo Guarda che questa amici è abituata a trick potenti Ma zio va che io ora salto qua faccio tre whip Allora com'è la biciclottina nuova? Ehm leggera Veloce Ehm Slime Fissa questo Fissa lo guarda lo guarda lo guarda lo guarda Guarda questo guarda questo Guarda guarda di qua Ora tutti vorrete sapere come mai ho interrotto i rapporti con Rose Siccome vabbè avete visto il video di addio di Rose Avete visto il mega giveaway che abbiamo fatto Sto regalando otto bici Tra l'altro se non avete visto il video ve lo lascio sempre qui in alto Il discorso è più semplice di quello che si crede Il rapporto è finito dalla loro parte non dalla mia Non sono io che ho voluto interrompere questa collaborazione Quando me l'hanno comunicato mi è risultato molto strano Proprio perché in questi ultimi anni abbiamo veramente spinto qua in Italia Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro di promozione di queste bici Che soprattutto in Italia non erano tanto conosciute Vi spiego esattamente com'è andata Di solito i contratti di sponsorizzazione e collaborazione si chiudono più o meno entro novembre Massimo massimo dicembre Proprio perché tutte le aziende devono organizzarsi per l'anno successivo Siccome appunto è otto anni che io collaboro con Rose Non avendomi detto niente durante l'anno Mi aspettavo che il contratto come ogni anno venisse rinnovato A novembre ricevo questa chiamata proprio da Rose Pensando che fosse la classica chiamata per programmare l'anno successivo Iniziamo la chiamata e... Allora la foto L'anno prossimo Rose non ti rinnova il contratto What? All'inizio tra l'altro pensavo di non aver capito bene l'inglese Infatti ho detto no scusa me lo puoi ripetere? E lì mi ha lasciato un pochino spiazzato Perché comunque è stato un po' un fulmine al ciel sereno Non che fosse scontato per me che le collaborazioni fossero infinite Perché come ogni sponsor nulla è infinito Però essendo da loro da così tanto tempo Mi aspettavo che fosse un pochino programmata O un pochino preannunciata la cosa La motivazione per cui mi hanno scaricato tra virgolette Raga non so se lo sapete ma nell'ultimo anno dopo il covid Il mondo mountain bike e bici in generale è in totale crisi Quindi quali sono i primi tagli che fanno? I tagli sul marketing E così è stato per me Poi loro mi hanno comunicato che in realtà Il loro focus dell'anno prossimo si sposta praticamente solo sulla Germania Proprio perché Rose è un brand tedesco Però sicuramente complice ne è questa crisi internazionale nel mondo del ciclismo Dopotutto è un lavoro E anch'io come un lavoro si non me l'aspettavo E non è che ho detto raga è la fine del mondo Ho detto vabbè è finito questo sogno Ma sicuramente se si chiude una porta si può aprire un portone E non è detto che prendere una boccata d'aria fresca non faccia solo che bene Quindi qual è il programma per adesso per l'anno prossimo? Segui In questo momento comunque raga mi sto dando da fare per cercare appunto un nuovo sponsor Non sarà facile ragazzi Ma il toto del futuro vi spoilerà che lo sponsor c'è è reale Scrivetemi nei commenti secondo voi che brand sarà il mio nuovo sponsor Però per ora questo è un momento di transizione Quindi c'è una cosa positiva Che posso farmi la bici che voglio Adesso diamo appunto il telaietto a Dani Che ci farà il nuovo colore di questa rose Che non sarà più una rose Ok Ma appena chiamato Dani mi ha detto che il telaio è praticamente pronto Devo andare da lui per capire dove mettere i locchi E abbellirlo in qualche maniera Io ho in realtà già di fare una modifica Ho detto che è ok giusto Si fa E adesso tra l'altro siamo venuti qui perché raga abbiamo pellicola specchiata E pellicola del wrap del furgone Perché non deve rimanere anonimo Deve essere il mio telai Nel frattempo lui ha completato tutto il telai verniciato Adesso me lo guardo e voglio vedere la mia reaction Minchia che figo che è Minchia che figo Il viola così è fighissimo Si ma spacca di brutto Pensavo che l'ultima dell'anno scorso fosse la più figa Invece quest'anno con Dani ragazzi ci siamo superati Sfuma dal nero davanti a tutta la parte posteriore del carro Dove il blu con la luce e col sole così come oggi si accende un sacco Questo giro bisogna ringraziare anche i ragazzi di wrap lab Il viola che abbiamo messo è esattamente la stessa pellicola che abbiamo messo sul furgone E gentilmente i ragazzi di wrap lab appunto mi hanno dato un po' di pellicola Mi serviva un pezzettino di pellicolina così perché Questo viola raga spacca troppo e qualcosa bisogna metterlo sulla bici Ormai diventerà colore ufficiale Finituro ufficiale Esatto E oltre ai miei loghi Il telaio abbiamo messo una linea viola Centrale Abbiamo messo due strisce che partono dal tubo obliquo Dall'inizio fino a metà E tra l'altro anche sotto il carro Anche se si vedono poco Ma vogliono essere volutamente dei dettagli C'è però il tocco di classe ragazzi che ha reso la bici veramente top Questi adesivi qua sulla forcella Che gentilmente mi hanno regalato e fornito ai ragazzi di piedi design Questi ragazzi sono gli adesivi più belli come ho avuto credo nella mia carriera E non li ho creati io Cioè me li hanno regalati loro a mia insaputa totale Insieme anche al tappino della serie sterzo In più chiaramente non potevano mancare gli industry 9 ragazzi Che a sto giro ok c'è il mozzo viola Ma in realtà i raggi sono fucsia e cromati Gommina Vittoria Mezcal In colorazione grafene Rimane nera con la spalla grigia E secondo me sulla mia bici adesso ci sta veramente da dio Pedalino classico switch Che ormai sto usando da un annetto a questa parte mi trovo stra bene E la colorazione a sto giro anche qua matcha all'infinito Sì ho su manubrio switch attacco switch Ma sono un po' sfrisati E voi direte ma perché cavolo hai fatto tutta la bici nuova e hai tenuto manubrio sfrisato E c'è un motivo perché faccio questa scelta Tutte le volte che monto una bici nuova Solo con la bici da door perché è quella con cui voglio avere più feeling Tutto il cockpit quindi manubrio stem manopole Lascio le stesse cose dell'ultima bici che ho avuto Perché il feeling rimane esattamente lo stesso dell'ultima bici Per me anche cambiare il manubrio e tagliarlo due millimetri più lungo O avere le manopole nuove che quindi sono un pochino più spesse Mi dà molto fastidio nei trick Poi quando si smolla tutta un pochettino cambierò anche manubrio stem e manopole Ragazzi rimane solo che provare questa nuova bici Che come vi ricordo è una bici un po' di transizione per adesso Tra l'altro per l'occasione oggi giornata molto particolare Perché a girare praticamente verranno tutti i ragazzi della vecchia guardia Fa paura la vecchia guardia vero? Figa la vecchia guardia E c'è giù un po' lo smerdacchio Quando non c'era il parque non c'era il parque E' vero Quando c'era il parque è bagnato Poi d'estate fa caldo Capita eh magari sto qua Ce n'è sempre una Allora ragazzi oggi è una giornata storica perché Da una parte c'è la vecchia guardia del dirt E dall'altra c'è la nuova generazione Qui in mezzo c'è C'è partono gli sguardi che arrivano qua in mezzo Pippo quando sei partito? T'ha guardato male Occio l'hai partito guarda che lo insegue E' partito l'inseguimento Andiamo subito su E' bagnato un pochettino Minchiali eh E' freeride Pippo E' un po' dove dire pippello sul primo Letteralmente può ingheppare qua C'è un po' di indecisione ragazzi Attenzione Pippo No no apre la nuova guardia Il giovacchino apre guardalo Ma stupito è il giovacco Ehi il giovacco non gli fa più paura niente Il motocross ragazzi aiuta un sacco L'ho sempre detto Pippo lo vedo cattivo Se c'è un po' di indecisione Si è successo Pippo? Secondo me era proprio accella Che? Secondo me si è girato Vitto con la BM eh ragazzi Com'è con la BM Vitto? No va di brutto No è che lei è un po' risata Però mi hai detto puoi atterrare anche dietro Adesso arrivo dietro Mingiamo un po' male la giornata Aspettazione perché è Vitto qui Vecchia leva ma è comunque gira anche lui Ti inizia con un 3 triplo Wip raga Mingchia Anche Diego Dai fagli brutto Diego Ma degli amici cattivi Allora ragazzi questa bici qua Quando dovrò venderla C'è il fortunato che la compra Sarà molto fortunato Credo la bici più bella che ho mai avuto Senza ombra di dubbio Cos'è che devi fare? Ah vuoi farlo? Dipende zio o lo fai o non lo fai Non è che devi stare qua Cioè dichiarato quindi Devi difendere la nuova generazione Contro la vecchia generazione giusto? Devi difenderla e quindi devi far vedere Questo trick da nuova generazione Cioè il signor Giorgione Devo mandare 3 downside Bar by trick hold Secondo tentativo per gioco Questo trick qua è proprio così È un po' stronzo Eccolo 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 Pensione New school passa in testa ragazzi Era bello Però l'abbiamo chiusa New school Dovevo solo dire che questa session ragazzi è stata molto particolare perché abbiamo visto due generazioni unirsi Tra la vecchia generazione che tra l'altro sono già andati via tutti In questi anni di park C'è stato un pochino di non dico screzzi con vecchia nuova generazione Però c'è sempre stato un po' di flame Oggi è andata bene Non ci sono stati neanche litigi Non ci sono state soprattutto punzecchiatine in giro e robe strane La bici avete visto? Raga è la bici più figa che ho Purtroppo O per fortuna in realtà È una bici di transizione Quindi non sarà una bici che tengo a lungo Però vabbè Mi è andata di sfiga raga che ho fatto la bici più bella Quando non la torrò tanto Vabbè ragazzi Vi tengo ancora un po' con l'ansietta per il nuovo sponsor Bella